L'Efes è una squadra con tanto talento, tanto talento offensivo, è una squadra che come noi è completamente rinnovata, anche se ha lo stesso allenatore, lo stesso staff tecnico e quindi probabilmente tra l'assemblare un gruppo nuovo e qualche infortunio, ripeto, un po' come noi ha magari un paio di vittorie in meno che poteva avere perché il livello è di una squadra molto molto importante e invece è un po' più indietro e quindi da questo punto di vista sarà una partita estremamente complessa perché non vorranno lasciarsi sfuggire l'occasione di rientrare un po' nel gruppo di squadre che tornano a competere fino in fondo per i play-off. Ripeto, tanto talento ma soprattutto anche una tipicità che viene data da come possono gestire il pacchetto lunghi perché adesso stanno giocando quasi metà partita con Dunston da 4 e con Stimaz che è uno dei migliori giocatori di post basso di tutta l'Eurolega e Dunston da 4 significa non solo tanta stazza, tanta energia in più ma significa tanti rimbalzi, non a caso è la squadra prima in Eurolega da questo punto di vista, prima nei rimbalzi offensivi e questo è già il primo segnale di quello che noi dovremmo fare per stare in partita e per competere, cioè riuscire a fare un extra lavoro per tenere a rimbalzo, per non dare seconde opportunità e poi questo invece per noi può essere leggere le varie situazioni di partita perché possono giocare con questo assetto o con Motum e quindi uno stretch for più classico dove sicuramente possono avere ancora molto più spazio tutti gli esterni di talento che hanno. Quindi noi tenere a rimbalzo, fare una grande partita offensiva perché di ritmo leggendo le situazioni dobbiamo riuscire a superare questa taglia nei giorni lunghi che hanno, rimangono delle chiavi importanti. Noi sappiamo che ci arriviamo preparati non come volevamo perché anche in questo momento di sosta nazionale ci siamo svegliati tra virgolette dopo l'Olimpiakos con molti infortunati, non si è mai allenato Gerrads, non si è mai allenato Gudaitis e per lui sarà anche game time decision perché non sappiamo se recupererà, al ritorno nazionale non si è allenato a Bas e molti altri acciacchi Mitzov riprenderà oggi, quindi una situazione dove insomma volevamo arrivare a questa partita in un modo diverso ma sappiamo, questo è probabilmente tutti i postumi non diciamo dell'Olimpiakos ma del ciclo del tour de force che abbiamo avuto e con l'infortunio di Gaudeloc iniziato a Valencia e quindi dovremo essere molto bravi alle risorse che abbiamo a stare 40 minuti sul piano partita con grande fiducia sapendo che stiamo dimostrando che in attacco possiamo segnare, possiamo segnare contro anche le grandi squadre come è successo con l'Olimpiakos contro le grandi difese quindi dobbiamo farlo anche con fiducia in trasferta e continuare a crescere difensivamente e anche quando abbiamo asset in cui la taglia può essere a nostro sfavore trovare veramente le risorse sia motivazionali che di squadra per sopperire a questo e invece avere magari un vantaggio nell'avere tanti giocatori che possono per noi far movimento e creare. Questo deve essere un po' il tema della partita, sappiamo che sarà molto dura ma è l'Eurolega e quindi per noi deve essere invece il tentativo e un'occasione di fare magari un altro risultato in trasferta dopo quello di Valencia.